buonasera e benvenuti al diario di papa francesco gli ospiti di oggi sono due passionisti padre leonello lady e padre francesco guerra benvenuti grazie due passionisti perché oggi parliamo di un passionista il servo di dio padre candido amantini eccolo qui in fotografia e abbiamo intitolato questa puntata sacerdote secondo il cuore di dio perché questa è un'espressione che padre pio che frequentava e conosceva padre candido attribui a padre candido perché secondo te credo che innanzitutto per la sua vicinanza al signore gesù la preghiera e poi quel condividere quei sentimenti di compassione quei sentimenti di amore di misericordia che sono propri del signore gesù e quindi un sacerdote che è nel cuore del signore gesù non può che battere all'unisono con lo stesso cuore quindi per la sua vicinanza per la sua accoglienza per la capacità di empatia che creava ecco attorno a sé e le persone sentivano questo quindi vicinanza a gesù nella preghiera nell'eucaristia allo stesso tempo vicinanza a gesù nelle persone che incontrava con il suo tratto di misericordia di bontà di accoglienza e questo credo che sia il vero motivo per cui padre pio disse quella frase che ha caratterizzato la persona e la figura di padre candido una figura di cui ce l'abbiamo tra l'altro il trentesimo anniversario della scomparsa e che ha sostanzialmente attraversato il novecento sostanzialmente mi dici due cose così per inquadrare il personaggio però poi soprattutto da te che l'hai conosciuto vorrei qualche elemento personale innanzitutto nel suo ministero padre candido è sempre stato una persona misurata e con una grande umanità vissuta e donata con il senso di dio io l'ho conosciuto quando ero giovane studente di teologia alla scala santa quindi durante il mio percorso universitario la sua figura è sempre stata una figura amabile e nello stesso tempo riservata quindi quando ho detto una persona misurata voglio intendere mai sopra le righe mai che tentava di mettersi in mostra nonostante ci fossero centinaia e centinaia di persone che ogni giorno andavano da lui per ricevere la benedizione o la preghiera di esorcismo perché lui è stato a lungo credo gli anni sessanta fino alla fine il primo esorcista della diocesi di roma in quel periodo in un periodo l'unico che esercitava in quel periodo si si primo non significa storicamente ovviamente sì il primo che effettivamente perché sappiamo che nel periodo del concilio del post concilio la figura del diavolo e la figura dell'esorcista hanno avuto un dibattito che era molto conflittuale da dal punto di vista che ognuno poteva prendere ecco quindi in quel periodo lui fece tutto questo con grande sacrificio personale ma con grande amore nello stesso tempo e prima invece aveva una storia di professore di teologia bibblista sì terminati gli studi ordinari per diventare sacerdote i superiori sentirono il bisogno che ci fosse qualcuno che potesse insegnare sacra scrittura è una materia fondamentale per quanto riguarda la formazione dei sacerdoti quindi lui si preparò prima con un corso di filosofia e teologia all'università di san tommaso e poi di scienze bibliche sacra scrittura all'istituto biblicum di roma però ci fu un momento di crisi di malattia in cui appunto cambiò il passò smise di insegnare e invece poi assunse questo incarico di esorcizia una esperienza un fare i conti con il male con la sofferenza che un'esperienza comune poi alla vita di tanti santi come ci spiega papa francesco ecco nel un discorso diverso merita il tempo dell'aridità è il momento della fede pura che rimane con gesù nell'agonia e nella tomba gesù non c'è nella tomba gesù è morto siamo soli e questo è il pensiero madre dell'aridità spesso non sappiamo bene la razione i maestri spirituali descrivono l'esperienza della fede come un continuo alternarsi di tempi di consolazione e desolazione momenti in cui tutto è facile mentre altri sono segnati da una grande pesantezza tutti i santi sono passati per questa valle oscura e non scandalizziamo si se leggendo i loro diari ascoltiamo ascoltiamo il resto conto di serate di preghiera svogliata vissuta senza gusto bisogna imparare a dire anche se tu dio mio sembri far di tutto perché io smetta di credere in te io invece continuo a pregare i credenti non spengono mai la preghiera che cosa è stata la valle oscura di padre candido con tutta probabilità durante quell'anno dal 60 61 e sappiamo di una sua malattia che poi lo ha lasciato debilitato infatti poi per il resto della sua vita padre candido si cipava con molta passimonia con molta attenzione probabilmente qualcosa che riguardava il suo fisico ma allo stesso tempo ecco questo li provocò un crollo non solo fisico ma anche probabilmente spirituale interiore ecco questa prova questa valle oscura non sappiamo con precisione di sicuro sappiamo che questo momento fu utopico segnò la sua esperienza spirituale perché appunto avvenne questo passaggio da un'attività di insegnamento poi quando venne trasferito dai superiori dalla casa generalizia al ceglio dei santi giovanni e paolo venne trasferito poco lontano alla scala santa ecco lui cambiò totalmente la sua attività pastorale quindi da 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 accademico ecco iniziò proprio la dimensione della pastorale sacerdotale e si affiancò ad un padre che a quel tempo esercitava un po' il ministero dell'esorcistato padre alessandro che lo introdusse ecco in questo ministero così importante e quindi credo e anche dalle documenti si evince che questo momento di prova questa valle oscura che è fondamentale senz'altro ecco per tutti i discepoli e in particolar modo la vediamo proprio presente nella vita dei santi sia stata per lui importante ecco e motivante anche per un ministero più intensamente legato alla dimensione sacerdotale quindi della dell'ascolto della misericordia del perdono della liberazione che cosa è la valle oscura di cui parla papa francesco e che cosa si può imparare da padre candido perché poi in fondo momenti di dubbio di stanchezza appartengono forse anche semplicemente alla nostra quotidianità quando è che questo diventa valle oscura e che cosa si impara da padre candido la parola luce ci dice che tutto è chiaro tutto è semplice la parola scura il buio ci dice che tutto è invece indistinto quindi è difficile da valutare difficile da avere chiaro nei contorni e quindi lì c'è bisogno in questi periodi spirituali di avere dei punti di riferimento molto forti e molto stabili e quindi questo per ciascuno di noi per ciascuna persona noi parliamo per noi cristiani avere un punto di riferimento ben preciso è Gesù quindi la vita di Gesù la parola di Gesù e continuare a seguirlo nonostante che molte volte i dubbi le incertezze della vita le delusioni possono portarci a potrebbero portarci a qualche cosa di diverso a prendere un'altra strada avere dei punti fermi nella vita spirituale è fondamentale e qual è stato il punto fermo di padre candido? secondo le testimonianze di tutti i punti fermi sono stati in particolare la Madonna quindi Maria il suo nome da religioso era dell'immacolata e aveva una grandissima devozione alla Madonna l'eucaristia non solo durante il giorno ma anche durante la notte padre candido si alzava andava in chiesa quando la chiesa era chiusa quindi c'era soltanto lui a pregare davanti al Santissimo Sacramento e la passione di Gesù che lui ha molto amato non soltanto perché era passionista ma perché poi concretamente lui l'ha incontrata nelle persone che soffrivano spiritualmente e lui sapeva riconoscere queste persone fortemente sofferenti quindi una passione di Gesù vista e sentita nelle persone accanto a lui ma poi vissuta anche personalmente perché come è stato detto dal confratello non soltanto per le malattie ma anche per gli interventi concreti e a volte durissime del demonio contro di lui padre candido questa passione l'ha sperimentato e allora parliamo della lotta con il demonio e di questa seconda vita di padre candido dopo la valle oscura la sua esperienza pastorale di esorcista ma sentiamo prima il papa sulla lotta con il demonio tutti siamo tentati perché la legge della vita spirituale e la nostra vita cristiana è una lotta una lotta perché il principe di questo mondo il diavolo non vuole la nostra santità non vuole che noi seguiamo Cristo alcuno di voi forse non so può dire ma padre che che antico è lei parlare del diavolo nel secolo 21 ma guardate che il diavolo c'è il diavolo c'è anche nel secolo 21 e non dobbiamo essere ingenui dobbiamo imparare del Vangelo come si fa la lotta contro di lui quali sono le testimonianze che abbiamo del ministero di esorcista come affrontò questo per dirla con le parole del papa specifico tipo di lotta allora devo fare una premessa che è non soltanto obbligatoria diciamo ma interessante padre Candido affrontava l'esorcismo secondo le regole della chiesa secondo il manuale che la chiesa ha dato per gli esorcisti questo ha un significato ben preciso che cioè non era lui padre Candido che esorcissava ma era Gesù attraverso quello che è l'insegnamento della chiesa quindi padre Candido sapeva di avere alle spalle la chiesa e lo stesso Gesù questa è stata la sua regola fondamentale oltre ad altre caratteristiche che sono penso sue proprie quindi una grande dottrina riguardo e un discernimento poi che gli veniva dalla sua sensibilità umana sapeva riconoscere concretamente le sofferenze di tipo psicologico le incertezze che hanno le persone i mali a volte morali da quello che erano anche i mali spirituali e invece la possessione diabolica vera e propria quindi aveva una chiarezza di mente ed aveva un'esperienza di vita oltre che in alcune occasioni certamente Dio lo ha illuminato in modo particolare che cosa è invece per noi che non siamo esorcisti la lotta con il demonio nella nostra vita spirituale? secondo i padri del deserto la vita del discepolo è una vita di lotta è una vita di lotta tra il bene e il male una vita di lotta tra colui che vuole farci cadere soprattutto colui che ci tenta nel senso che ci vuole allontanare separare dall'amore di Dio e quindi ogni giorno è questa nostra capacità di discernere ciò che è bene e ciò che è male e quindi in questa lotta di come dice anche il Santo Padre nella sua enciclica nella sua esaltazione apostolica lo vedete, le risultate al capitolo quinto verso il numero 160 occorre proprio in questa lotta armarsi di quelle che sono le armi per poter vincere il male che ci distrae, che c'è che ogni giorno ci porta lontano che sono le armi della preghiera le armi dell'eucharistia dei sacramenti le armi del rosario ecco armi semplici ma molto efficaci che in questa lotta che ci appartiene ci fa uscire i vincitori quindi è un'esperienza comune ogni giorno sentiamo in noi questo desiderio del bene di poterlo scegliere di poterlo farlo ma dall'altra parte anche la nostra debolezza la nostra povertà l'essere continuamente distratti portati altrove e molte volte soccombiamo ecco questa lotta quotidiana ci appartiene ci appartiene è una cosa fondamentale quindi anche la dimensione interiore della preghiera della regola di vita interiore è fondamentale per poter uscire i vincitori da questa quotidiana lotta perché la vita che cosa ci insegna l'esperienza di Padre Candido? ci insegna proprio questo stare dentro questa dimensione ecco così della prova stare questa dimensione un po' della lotta di rivestirci delle armi della fede per poter vincere il maligno per far sì che egli non prenda possesso della nostra vita che i nostri pensieri la nostra volontà il nostro cuore cioè il nostro essere sia orientato al Signore sia abitato da Lui e non sia invece portato lontano distratto ecco il maligno è colui che innanzitutto vuole farci disparare dell'amore di Dio quando sbagliamo vuole allontanarci della sua bontà e della sua misericordia vuole convincerci ecco che noi veramente siamo soli che nessuno ha cura di noi e che ci ama rimanere vittoriosi in questa lotta rimanere uniti al Signore attraverso le armi della fede come dicevo della Eucaristia della preghiera del Rosario significa poi uscire nei vincitori con Cristo perché è Lui che ci dà la forza vediamo quello che è successo oggi invece oggi pomeriggio poco fa è terminato nell'aula Paolo VI un incontro di Papa Francesco con i partecipanti al convegno internazionale Sport per Tutti un summit internazionale all'interno del quale è stata presentata una dichiarazione sullo sport il tutto organizzato dal di Cassero per i laici la famiglia e la vita e da quello per la cultura e l'educazione lo sport ha detto il Papa crea comunità ma sentiamo le sue parole quando lo sport viene praticato mettendo al centro le persone e valorizzando il piacere del giocare insieme fa crescere in ciascuno un senso di partecipazione di condivisione fa sentire parte di un gruppo lo sport è un generatore di comunità lo sport può essere simbolo di unità per una società un'esperienza di integrazione un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace oggi abbiamo tanto bisogno di una pedagogia di pace di far crescere una cultura di pace a partire dalle relazioni interpersonali quotidiane per arrivare a quelle tra i popoli e le nazioni se il mondo dello sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace lo sport è un bene educativo un bene sociale e tale deve restare per questo abbiamo una responsabilità di far sì che lo sport sia accessibile a tutti bisogna rimuovere quelle barriere fisiche sociali culturali ed economiche che procludono e ostacolano l'accesso allo sport l'impegno è che tutti abbiano la possibilità di praticare sport di coltivare si potrebbe dire allenare i valori dello sport e di trasformarli in virtù saluto collegato con noi Nathan Leopold che fa parte del comitato organizzatore di questo incontro sport per tutti intanto che cosa è stato questo incontro innanzitutto è un vero piacere di essere con voi essendo membro del comitato organizzativo del del summit sport for all oggi infatti il nostro lavoro negli ultimi giorni il summit in generale è stato un lavoro per preparare a questa dichiarazione per promuovere uno sport molto più ampio uno sport come dice recitando le parole del papa un generatore di comunità però sapendo molto bene che non è un bene in sé non è un bene assoluto è l'incarico di noi di promuovere uno sport accessibile coesivo e chiaramente su misura per tutti e quindi ecco il lavoro a chi è rivolta questa dichiarazione che cosa c'è scritto allora noi abbiamo abbiamo avuto siamo molto felice perché abbiamo avuto il sostegno di vari grandi istituzioni come partnerships ufficiale fra di loro l'alto commisario delle Nazioni Unite per i rifugiati il comitato olimpico internazionale il comitato paralimpico internazionale i special olympics provenienti dagli Stati Uniti e quindi abbiamo già queste varie organizzazioni ma anche i due di Casteri che rappresenta una grande collaborazione che possiamo anche parlarne di più però grosso modo è una dichiarazione dalla nostra parte di tutti i partecipanti del convegno dicendo che noi siamo pronti per raggiungere gli obiettivi che abbiamo messo nella dichiarazione cioè la dichiarazione è veramente una dichiarazione cioè che noi dobbiamo incaricarsi e dobbiamo mettersi in serio sui vari incarichi per mettere in azione tutto ciò che abbiamo parlato negli ultimi giorni senti ma quando è che lo sport a volte noi lo vediamo che si crea comunità ma crea comunità contrapposte quindi cultura a volte di scontro e non di pace che cosa serve perché lo sport sia solo generatore di comunità ecco una bellissima domanda in cui tutti i partecipanti hanno accenato a lungo io cercherò soltanto di dare un riassunto perché non sono l'esperto e gli esperti sono i partecipanti che noi abbiamo avuto il grande piacere di accogliere qui al Vaticano però grossomodo l'idea è che l'idea è nel titolo del summit stesso cioè di essere coesivo di essere accessibile e di essere su misura cioè queste sono le categorie di incariche di azioni che noi dobbiamo intraprendere per raggiungere uno sport che fa una comunità nella società che non è soltanto lo sport per i fini economici ma anche per i fini sociali per l'integrazione come dice anche il Papa e poi faccio magari riferimento al comuniter che fa parte adesso del moto del comitato olimpico internazionale che è stato raggiunto recentemente comuniter che vuol dire insieme ecco faccio anche riferimento alle parole del santo padre quando durante il suo discorso ha detto che nessuno è in grado di raggiungere questo incarico da solo come lui dice molto spesso insomma quindi si diventa comunità essendo comunità grazie davvero Nathan e buon lavoro grazie naturalmente anche a padre Leonello e padre Francesco io vi auguro buona domenica e vi do appuntamento però a martedì perché lunedì non andremo in onda ma trasmetteremo i vespri alla vigilia della festa di San Francesco i vespri del pio transito di San Francesco e cominceranno alle 17.30 proprio al posto del diario ci vediamo martedì buona domenica